Samuel Stern numero 29, le anime morte, hanno droppato la bomba e poi ci hanno sviato il discorso con una storia indipendente. Wobalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Samuel Stern, appuntamento mensile con il nostro Rosso di Edimburgo. Vi ricordo sempre anche che qua sotto in descrizione e nel primo commento trovate tutti gli elementi per potervi iscrivervi al fan club Sterniani che vi potrà dare dei simpatici gadget per esempio quest'anno nel loro magazine. C'è anche una mia intervista a Massimiliano Filadoro, Massimiliano Filadoro che è anche l'autore di questo numero, al secondo numero scritto in solitaria dopo il numero 10, l'altro inferno. E anche qui devo dire che si parla in un certo senso di concezioni particolari di inferno. Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che vedono delle ombre e di commentare qui sotto con quello che ve ne è perso di questo numero e di questo video. Approfitto anche per ringraziarvi dall'enorme riscontro sul video di Dylan Dogg, vorrei anche invitarvi a scrivermi qua sotto nei commenti quanti di voi che guardate i miei video su Dylan Dogg, guardate anche quelli su Samuel Stern o viceversa, insomma scrivetemelo qua sotto. Vi ricordo anche che domani sera, martedì 12 aprile, ci sarà una live in cui faremo una classifica, una top 10, una tier list dei migliori e peggiori. Dylan Dogg la faremo insieme a Umberto di Pelati e Fumetti, a Luca DJ e a Kuro del canale di Kuro. Trovate il link al mio canale Twitch perché le live le faccio su Twitch sempre qua in descrizione. Sui vari gruppi Facebook degli affezionati di Samuel Stern era già stata un pochino fatta assaggiare questa piccola bomba della figlia di Samuel Stern che capisce l'identità del padre. Figlia di Samuel Stern che è sempre stata all'oscuro del fatto di essere tale, ma che qui nelle primissime pagine del numero sgancia la bomba e dice tu sei il mio papà e a pagina 9 questa conversazione viene interrotta dalla storia principale, quindi ci hanno proprio lasciato con un cliffhanger iniziale per poi essere ripresa vagamente alla fine in quella che sembra essere una cornice alla storia principale ma che in realtà è molto legata ad essa. Il numero in questione che è quanto mai centratissimo con gli appunti del Daryling che questa volta più di altre volte vi invito a leggere perché ci aiuta a capire meglio il concetto che viene spiegato all'interno della trama. Il concetto di bene e male per persone come Angus o come lo stesso Raiden che è il sensitivo che avevamo visto nel grande, diciamo, numero di chiusura del secondo anno di Samuel Stern in cui ci mostravano una spaccatura tra l'inferno di legione e la nostra realtà il concetto di bene e male per loro è molto vago, non c'è una distinzione tipicamente cattolita che ha padre Duncan tra bene e male, tra demoni e angeli ma si parla solo appunto di anime, di anime morte in un certo senso. Come si appunto, e lo spiega lo stesso Angus negli appunti del Daryling, ci fosse una sorta di partita tra l'informe che è il modo in cui viene chiamato il demonio, il diavolo in persona e l'altissimo, no? Quello che c'è di là, non si sa se c'è un dio o se c'è una schiera di angeli o comunque tra colui che manda gli angeli sembra quasi che ci sia una partita, non tanto appunto tra bene e il male, ma sui vivi e sui morti ma non inteso in senso corporeo, ma inteso in senso spirituale. Le anime che hanno dentro di sé un'orma che poi sviluppa un demone che va a possedere l'essere umano è una sorta di anima che sta morendo, un'anima morente e di conseguenza quello che ci tiene ad avere l'informe è in un certo senso il maggior numero di anime morte dalla sua parte uccidendo tutte le anime è come se vincesse questa partita fondamentalmente Devo dire che il numero in certi momenti sembra arrivare a un climax per poi spezzarlo e ripartire è un po' un gioco di farci vedere un po' la carota da lontano noi cerchiamo di raggiungerla ma la carota si allontana sempre di più ed è così più o meno fino a pagina 50 dopodiché si entra diciamo un po' di più nel vivo e mi è piaciuta molto l'analogia anche se è velatissima tra il male, diciamo questa massa in forma che è uscita da Legione questa specie di uomo nero come lo chiama Raiden che è una sostanza viva ma non cosciente che viene anche messa come sostanza per drogarsi e da qui anche l'analogia tra il male e la droga è una cosa che mi è piaciuta e che spero venga ripresa più spesso per fare numeri più variegati che ci potrebbero portare anche a numeri come i vampiri di Dylan Dog ovviamente dopo la chiusura della seconda stagione di Samuel Stern nel secondo anno le regole sono molto cambiate questo permette anche agli autori di mostrarci delle cose che prima non erano concepite diciamo nell'universo di Samuel Stern vediamo questo pusher che è diventato un diacono è diventato un araldo di questo uomo nero e contiene dentro di sé una sorta di strana possessione fisica che è anche molto disgustosa da vedere però non ci è dato ben sapere quali siano i suoi poteri è soltanto molto brutto da vedere però non dura tantissimo è come se fosse il big bad di questo numero solo per nasconderci il nemico reale nasconderci fino a un certo punto perché Filadoro ce lo fa un po' annusare per le prime 50 pagine però come ho detto prima lancia un po' il sasso e poi nasconde la mano finché poi nel finale, nell'epilogo che non vede Samuel Stern ma vediamo solo noi spettatori scopriamo appunto le vere intenzioni di Raiden che purtroppo è stato toccato in modo molto forte da Abisco da quello che ha visto ad Abisco si è parlato di ombre, di demoni, di incarnati e si è accennato nella storia di Samuel Stern a una piccola differenza tra demoni e diavoli che non sono la stessa cosa ecco, qua credo che finalmente potremmo vedere l'equivalente della possessione diabolica e non demoniaca che l'equivalente appunto diabolica di quella che potrebbero essere Isobelo gli altri posseduti dagli angeli qua vediamo Raiden che sembra essere proprio un vero e proprio diavolo in terra un diavolo con tanto di ali ecco, mi piacerebbe vedere un po' questa differenza tra persone possedute da possessioni demoniache e persone come Raiden che invece pare siano essere dei diavoli veri e propri un po' come Lucifer in un certo senso e vi faccio notare che il 30 aprile ci sarà un numero che si chiama La Crepa con in copertina Samuel Stern con dei pezzi di puzzle che iniziano a sgretolarsi di conseguenza se Duncan ci ha mostrato una possessione demoniaca da parte di Duncan in La Crepa potrebbe parlare di qualcosa che c'è dentro Samuel o magari si riferisce alla Crepa di Abisco non lo sapremo fino al 30 aprile però chi lo sa che anche Samuel non nasconda qualcosa dentro dopo tutto quello che ha visto o che prima o poi ci spieghino perché Samuel ha questo potere perché vede certe cose soprattutto perché anche Lily le vede anzi sembra quasi che Lily veda più cose di Samuel e devo dire che nel finale nell'epilogo quello con Samuel e Lily Lily è davvero molto molto inquietante vedremo cosa ci sarà nel futuro perché francamente ho persino paura che Lily potrebbe non essere dalla parte di Samuel in futuro quindi vedremo come sempre ancora grazie per avermi seguito con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video ciao 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 ciao